Per Giorgia! Per Giorgia! Sì! Seggito! Tagliato il riso! Siamo in giro! Ragazzi, per favore! Ragazzi, non mettono loro, ti sputteranno! Non facciamo i piedi! Non c'è te lo fanno, non c'è ben i figli, ma lo capisci questo! E' perciò questo! Io penso che anche tu! Però io penso che tu c'hai... Io penso che questi sono i tanti che hanno analizzato la situazione! Ma che sto parlando? Ma no, no! Ma no, no! Ma no, no! Ma no, no, no! Allora, voi adottoratireste vediamo indireste... Non rispetta la Costituzione! Ragazzi, ragazzi! Dovete stare con voi! Non lo rispetta! Articolo 32! Articolo 16! E lo sapete bene, ragazzi! Io posso salire dalla delegazione che sa! E allora, qua si è pure lui! Oii! Voi dovete trovare sui gogni di cazzo! Non siamo qui! E che cosa fai? Io voglio la libertà! Voglio la libertà! Eh, ma andate adatto! Il governo italiano, forse alla libertà! Eh, ma andate adatto qua! Andate adatto così! Andate adatto così! Grazie!